Ebbene sì, anche alla vigilia si va al confine Ragazzi, come state? Volevo farvi tanti auguri Vi ricordo che domani è Natale ed uscirà sul canale il ritorno della serie principale di Minecraft Non potete assolutamente mancare quest'oggi un dicesimo appuntamento di Papers, Please Nell'ultimo episodio, questo è quello che è successo Siamo ricchi in culo Stai fanò, stai fanò Hai già preso tre ammonimenti e sei appena seduto Ma che cavolo? C'è un omino rosso Che cosa avrà voluto dire qui tizio là? Ti do sta possibilità, tipo in volantina Uscita gratis di Papers Fammi vedere cosa sai fare Scusa Giorgi Tanti pollicioni in su, attivate la campanellina Vi ricordo che stasera alle 18 c'è un nuovo appuntamento qua sul canale Io vi auguro una buona visione Et voilà, oggi è l'undici Non può succedere niente di male No 17 dicembre, una vera epidemia minaccia le federazioni unite Va bene Vediamo che cosa si inventeranno C'è una ragazza di voi che mi ha mandato su Instagram il risultato di eccellenza Di perfezione che ha fatto Mamma mia Amico come stai? Oh da Dio, guarda è Natale Sono felicissimo Mi devi chiedere un piccolo favore Hai incontrato una ragazza bellissima? E pensi a lei ogni momento? E succede quando ci si innamora Stai tranquillo Hai saputo che finalmente viene qua? Perfetto, la facciamo passare Fai passare lei? Io sono in debito? Suo nome è Elisa Ma figurati se può andare storto qualcosa Per te Questo è d'altro Asseggio Che carino Ti amo perso Che carino Allora i cittadini delle federazioni unite presentano un rischio di diffusione di malattie infettive Dobbiamo mandarli a casa Ci portano i covid qui No 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 Gravissimo Gravissimo Non possiamo permetterlo Noi veniamo dal futuro Sappiamo già Che cosa può succedere Federazioni unite Eh cerchi asilo? Mi sa che tu te ne torni a casa Non ti faccio neanche le impronte Non mi interessa Perché tu sei delle federazioni unite No ho sbagliato Perché se gli faccio vedere quello Lui non capisce Sei malata Devi tornartene a casa Rifiuta E via Molto semplice Spero che siano tutti quanti delle federazioni unite Sono in piena salute È troppo facile rifiutare ingresso Ho tante carte per niente Non è un problema mio Io devo far rispettare queste regole È chiaro? Salve Carto mazchmia Vengo solo due settimane Sembrerebbe corrispondere Ma questo qua è scaduto Che si fa? Potevi venire solamente adesso È proprio una mossa stupida A casina Non è che a Natale sono tutti più buoni Quindi non ti punisco rimandandoti a casa Mi dispiace Tu assomigli tantissimo a un delinquente Oggi sarò rapido Veloce Coinciso Non passerà nessuno Non hai niente da dire Io ti faccio arrestare Devo arrivare sano e salvo al Natale Non vi azzardate A rompermi los cojones Avanti il prossimo Che cos'è questo? Mi lasci un'altra cosa Un bigliettino Tu come fuoco ardente Tu desiderio rovente Ancora messi Ancora messi Ancora messi Di mio cuore sofferente Ha provato Però mi ho visto Stai cercando di Corrompermi Per qualche stupido motivo Non puoi farlo Sappilo Non sei diplomatica Ok Non hai permesso d'entrata Serve davvero Purtroppo Mi dispiace Ma sì Io ho Un'unica missione Fare entrare Elisa La ragazza di Sergio Tu non sei Elisa Per sempre No 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 Ah bella mia Mi hai detto 14 giorni Il permesso Che cosa fai? Chiedo scusa Vengo un paio di settimane Mannaggia Questo gli scade Proprio a dicembre Che coincidenza Il capello Sembra lungo C'è da dirlo Però qua Beh Ah ma aspetta Cercavi di fregarmi Quando una cosa Non va C'è sempre l'altra A seguire Vi dovete fidare Perquisizione in corso Non sono sicuro Di volerti far passare Vediamo Se corrispondi A essere un maschietto Oppure no Polpaccio c'è E anche il petto No 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 Non va bene Mi dispiace tantissimo Ma mi sa che te ne devi tornare a casa Non sai che cosa dire Eeeh Mi dispiace Purtroppo ti devo arrestare È la fine Per cercare di fregarmi Tu hai pagato Un documento falso E hanno sbagliato a fartelo Perché probabilmente Lo hanno fatto di fretta Griffith Nevons Lui è di passaggio Per quanto tempo? Due settimane Questo lo deciderò io Il 21 Non è scaduto La vita fa schifo Nessuno ama me Gli do questo Guarda Risolta così Come fuoco Desiderio Oh cucciolino Nessuno dice le cose carine a me Parte su visto Confonde Ma il resto è potente Grazie Va bene Ci ha dato la moneta Della collecchia Mi siamo molto contenti Approviamo Non ho neanche controllato Tutto il resto Mi ha addolcito Mi ha fregato Sicuro raga Cedolino No Ok Fa parte della storia Ci piace Zalestin Alexander Da Paradizna Che ci dovrebbe essere Noi dovevamo fare qualcosa Con quelli che venivano da Altan Giusto? Non vale più la cosa di Altan Quindi Sì invece Proseguire la confisca Vedete che mi sono ricordato Raga Sono veglia Che pensate Dov'è il passaporto? È confiscato Perché sì Dov'è Elisa? Dov'è? Tra l'altro si chiama come mia sorella Quando uscirà questo video Probabilmente sarò con lei Richiesta per discussioni diplomatiche C'è solo un problema Cioè mi dispiace veramente tanto No oddio Fermi tutti Fermi tutti Come sta Dimitri? Ho sentito che ora guida il presidio Sembra il posto adatto a lui Scommetto che è ancora il capotroce Che conosceva lei probabilmente Lei è Shepiev Sovska Non so se avete capito Quella che ci aveva chiesto di fare entrare L'unico favore che dovevamo rispettitore No è tutto sbagliato È tutto sbagliato ragazzi È proprio palese Guardate Come? Ah Non è sbagliato È giusto? No il problema è un altro ovviamente Cioè il problema è questo Di base Hai nessuna correlazione Tu non hai il permesso per il nostro paese Non so come spiegare Non fai parte della diplomazia di Arsosca Parla con i tuoi superiori Io ti sconsiglio Dimitri non perdona È tutto vero però eh Oh mio dio Non mi direi che è anche la criminale del giorno Sennò è impazzesco Ok perlomeno su quello si salva Fidatevi Questo cedolino ne varrà la pena Spero che Dimitri ora stanca Prima non voglio stare tanto in Arsosca È la moglie di Dimitri Oh mio dio Meno male No no va bene va bene va bene Lei è giusto che sia entrata Porca miseria raga E meno male che mi sono ricordato Di sta scia Pier Sosca Questa viene per asilo politico Ma da dove? Da import Da import Non è un problema C'è un piccolo check dell'improntina I dati sono coincidenti Canet Marie Canet Marie Tutto quanto corrisponde Quindi direi che possiamo farla entrare 49 kg Solo l'altezza No è giusta Quanti fogli da guardare Mi stai facendo vedere il voltastomano Te lo giuro Era a prova Assorata Lo sai cosa vuol dire? Il bollo era contraffatto Uno abbassa un secondo la guardia E guarda che cosa succede Caschetto per un paio di settimane No è scaduto Non entri Col cavolo Ho già preso due ammonimenti Non voglio altre cose Da pagare cose No Rifiuto Motivo E ciao Avanti il prossimo Ah già hai ragione Te vorresti dire tutto Ciao 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 Federazioni Unite No mi dispiace tantissimo Non puoi entrare Guarda non ti pagano neanche Probabilmente Via 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 Ciao Nessuna entrata Mi dispiace Siamo riusciti a non pagare nessuna penale Anche oggi Che è meraviglioso Stanno tutti quanti bene Come vedete si è aggiunta anche la nostra nipote Possiamo pagare tutto quanto Non andiamo alla classe successiva Però toglierei cibo di riscaldamento Così li sparmiamo È vero è un po' brutto A livello di storia Perché lasciamo al freddo E non li facciamo mangiare 18 dicembre Il ministero della salute Proteggerà i cittadini Nuove politiche Le misure al confine Vediamo Che cosa dobbiamo fare Le mascherine C'è sicuramente dentro alcune A aspettarci Magari Dimitri Pronto a dirci già qualcosa No Ok Il rischio di contagio è troppo elevato È stata istituita una nuova procedura Tutti i richiedenti Devono esibire un certificato di vaccinazione Dentro ci deve essere Il poliomielite valido Questa viene a vedere amici Ovviamente Delle federazioni E rimane solamente per 14 giorni 51 kg mi corrisponde Controlliamo questo Troppe cose da vedere Sicuramente sbaglieremo qualcosa Ragazzi ve lo dico Poliomielite Non c'è C'è polio e basta È perfetto È perfetto Però D'ora in poi i documenti Quando non servono più Li butto sul tavolo Ok Li controlliamo Uno a due No Nuova politica aziendale Alexei Medici Sono di passaggio A tutti quanti Figo Resto qui finché muoio Fa molto ridere Perché qua c'è scritto Due giorni Giusto Rimango un paio di giorni Ma per quale motivo Dire quella cosa Non ha senso Femmina Siamo proprio sicuri Ma invece si Mi sembra che tutto quanto Corrisponda Alexei Medici Alexei Medici De Medici Caschetto Ce l'ha I chili Ci sono L'altezza Corrisponde Non è scaduto Un bel niente Lo approviamo È lei È lei Conosci Sergio Certo che conosco Sergio Io prego Mia famiglia è scomparsa Resta solo Sergio Tieni Questo è per te Lui ti sta aspettando Ti approvo Il tuo amore Il tuo amore Lui ti manca Ragazzi Preparatevi Perché questo qua È storia Non dimenticare La gentilezza No figurati È bellissimo Poter riconciliare Un amore Lo so Non importa Non ci interessa Non ce ne frega niente Elisa Che bello Che belli Oh Ti abbracciano Raga Standing omission Tutti in piedi Voglio che i vostri genitori Vi guardino negli occhi E vi dicano Ma che cazzo state facendo Perché state prendendo Il telefono Per Sergio Elisa Per una storia d'amore A pixel Ma i videogiochi Quanto possono darci Molto di più di quanto Noi possiamo dare a loro Guarda che si salutano Si abbracciano l'ultima volta Perché Sergio deve tornare a lavorare Ovviamente Anche lei assomiglia Ad Elisa Viene per visita Non hai già I documenti Non c'è il vaccino 12 settimane Sì sì Ora controlliamo Non posso permettermi Il certificato E non ti posso Per entrare Rifiuta Rottura sta roba Del timbro Del motivo Però eh Ma tu assomigli che uno L'altro giorno L'hai ricercato Se non mi ricordo male È scaduto Bello Non devo prendere neanche Gli altri documenti È molto fiscale il presidio Sei contento di avere i documenti in regola Non credo Non credo proprio Rifiuta 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 Ne ho dovuto tirare su solamente uno Per beccarti amico mio Comunque quelli dell'ordine Muti Sono spariti Non so se ci siamo resi conto Polio c'è Transita verso un altro paese Solamente per due giorni Che sembrerebbe corrispondere 31 12 Questo corrisponde Vi direi che anche il nome è ok Possiamo controllare anche il nome di qua Magari ma mi sembra ok Possiamo controllare questo codice Il polio c'è Vale per tre anni Può andare Approviamola Francesco Busiello No via Adesso è la toscana C'è mezzo Per forza 177 cm 76 kg La d'Alzosca Ah tu sei di Altan Mi fa vedere se c'è da continuare a confiscarli Attenzione certo Proseguire Quelli del distretto di Altan A prova Sì l'ho fatto un po' storto Ma tanto non frega niente a nessuno Dove è il tuo passaporto? La stessa zuppa E tutti quegli altri E cosa fai? Vai a casa Tu chiami E te lo riportano Sarebbe un pendolare Che deve fare avanti Indietro Avanti Indietro Avanti Indietro Anton Vallari Il polio c'è Transita verso un altro paese Per 14 No 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 Di nuovo no Oh La chiave La chiave La chiave La chiave La chiave Oh mio dio raga Ho rischiato tantissimo Se mi uccidevano Sergio Impazzivo Impazzivo Ho salvato tutti No uno no Uno è morto però Eh che devo fare Bonus arresti anche Bonus cecchino Dobbiamo pagare cibo Riscaldamento E medicina Ovviamente 130 dollaroni Da parte Oh raga Vada dio 19 dicembre Violazione coordinata Nel confine I gnoti Aggrediscono la sorveglianza C'è una mica colpa Della tipa Che ho fatto entrare io C'è Fierzovska L'amica di Dimitri Che è il tipo Che sta A capo di tutto questo Eh No perché Ve lo dico Gli ho salvato la vita A Sergio Ciao Buongiorno Grazie per tutto Tranquillo Tranquillo Elisa è felice qui Eh ci credo Meno male che non è accaduto Mentre c'era lei Dice che il nostro primo figlio Lo chiama come me Io sono Stepney Oppure se preferisci ST3PNY Più comodo Anche per il codice fiscale Cos'è che mi vuoi dare Una roba a casa mia La porta Elisa Sono trasferito In un altro incarico Buona fortuna amico mio Ciao Sono contento Che si è salvato Raga Che bello Allora Per una maggiore di efficienza Ho messo l'entrata Di identifiche Devo sbumentare Sono ora integrate Il permesso d'accesso Tutto insieme Solamente in visita Per tre mesi Polio Ok Mia sorella è passata La settimana scorsa Con altri documenti Ora serve un nuovo permesso D'accesso Costa il doppio di prima Le regole Non le faccio io Quindi non venire A rompermi le scatole Fammi vedere se qua Coincidono tutti quanti I tuoi documenti Partendo da ovviamente I nomi I codici Il vaccino c'è Il peso c'è L'altezza 180 La mi corrisponde Sei magari fra i delinquenti Della giornata Ti salvi Anche se assomigli tantissimo A uno di qualche giorno fa Ha detto che viene per visita E corrisponde Non ha detto per Si ha detto per quanto Basta Non trovo motivo Per non farlo entrare Mi sbaglio oggi C'è poca gente al confine Eccala L'ho detto prima no Buongiorno è tornato Il governo vuole cedere Le richieste di Colechia Sacrificare Grestini I negoziati vanno bloccati Fai entrare il diplomatico di Colechia Ma confisca prima il passaporto Seguirà l'agente ESIC Per assumerne l'identità Assolutamente no Capito Hai letto il mio labiale Forse non capisci la mia lingua Beh Non ti faccio niente Nessun favore Mi dispiace Salve Enni Bantari Visito dei parenti Per quanto tempo 90 giorni Il polio c'è Dura 3 anni Va bene I documenti Li controlliamo sempre con calma Uno per uno Noto che l'efficienza È effettivamente efficienza Sono contento Che abbiano fatto questo upgrade Ovviamente il nome va controllato Anche qua Però a me sembra Regolare Bantari Bantari Puoi entrare Bantari Puoi entrare Bantari I delinquenti non provano più a venire da me Frederica Di Altan 48 kg 167 cm Ampiamente superati Vabbè Fanno sempre come vogliono Tanto nel senso Che non le faccio io le regole Fanno loro a quanto pare Tutto mi sembrerebbe corrispondere Distretto di Altan Questo lo requisiamo Se permetti E ti approvo Nada il passaporto è sconfiscato Non lo puoi aver Today Deve schiamare Talloncini Totti Hola compagneros Jesper Madsen Transito verso L'altro paese Per quanto tempo Per due giorni Adesso controlliamo Se è per due giorni o no Polio Due giorni Va bene Questo codice qua Corrisponde Vediamo se corrisponde Anche di qua Mi sembrerebbe proprio di sì Voglio controllare Però Per scrupolo Questo documento Se è corretto Oppure no Penso proprio di sì Va bene C'entra niente Vero lui con lui Calvo Non mi sembra Invece sì Ho provato in tutti i modi Devo farlo entrare Raga Non ci sono riuscito Mi dispiace No Cosa Il nome No ma l'ho controllato No No Che stupido Che sono Richiesto per discussione diplomatica Quindi lui è quello A cui dovrei Cere Prendere il certificato Quindi sicuramente Può entrare No Non prendiamo nessun documento Noi non diamo l'identità A nessun altro Tranquilli Adesso si è fatto anche in colera Alstel Dunstovic Che Ho controllato prima raga Forse ho miscliccato Non mi sono accorto Perché sono un pirla Visita Tre mesi 177 cm Ce li abbiamo I 76 kg pure Mi sembrerebbe tutto regolare Ma come Il numero non era conforme Ma raga ma sto sbagliando qualcosa Sono qui per prendere il passaporto diplomatico Non ho il passaporto Ah era uguale È vero era uguale Era identico Ma come se la sono studiata Povero pollo Bella liciando Per visita Allora Questo qua Questo qua Nel senso E ok Hai detto che vieni per due mesi Ma in realtà c'è scritto uno solo Stavolta non mi freghi Giusto rimango solamente 30 giorni Brava Emma Trulenska Ferma subito amica mia Calmiamoci Non ho neanche preso questo Non mi serve Fammi vedere immediatamente Di cosa si tratta Emma Trulenska Emma Trulenska Infatti c'è qualcosa Che non mi va qui Scusami eh Non puoi entrare ovviamente Non sai cosa dire Lo so Non ti faccio arrestare Tranquilla però non puoi entrare Mi hai detto di essere un po' più flessibile Meno cinico Meno schematico Non l'ho arrestata E che cavolo È già qualcosa Tutti hanno il vaccino Comunque incredibile Joseph Scritto così Cioè proprio Non mi scammano Ha garantito Per otto settimane Infatti due mesi Il cod Eccolo là Il nome ve l'avevo detto Che sicuramente Ci avrebbero scammato Però potrebbe avere un alias Nel senso Ora lo controlliamo eh Non è nessun alias Quindi mi dispiace tantissimo Caro Joseph Ma Shane non corrisponde Ha cambiato il nome di recente Ma ti ho appena detto che no Non è così Quindi ti devo rifiutare Prendi tutte le tue stupide cose Vattene Duro piccoccio Non tu puoi entrare Ti ho detto Non rompere Young Lee Vedere amici Da Corista City Per poche settimane Questo mi sembrerebbe corrispondere Un mese abbiamo capito Che è poche settimane 198 No Te lo sogni bello Cioè Mancano un po' di centimetri qua Oh Oh Forse hanno sbagliato a fartelo Ecco le mie impronte E quindi Ma che vuol dire Che vuol dire Sì ok Le impronte coincidono con gli archivi Ma è l'altezza Che non corrisponde Non puoi entrare Bello Non puoi entrare Fariazione naturale Devo farlo entrare Fidatevi Fidatevi Fariazione naturale È una risposta corretta Per non prendere il cedolino Fidatevi Zero pena Sono un pirla Una giovane donna Ha lasciato qualcosa E che cos'è Non dei soldi Dai Non volevo dei soldi Dono di Elisa Mi ha lasciato 100 dollari Potremmo permetterci La classe 7 Dare un futuro migliore A nostra famiglia Vai Lo facciamo Compriamo una casa più grande Per il nostro futuro Ragazzi l'undicesimo episodio Termina qua Io spero che vi sia piaciuto Voglio vedere tantissimi pollicioni In su e tanti tag Su Instagram Per Sergio Elisa Innamorati Mi raccomando Alle 18 Nuovo appuntamento Domani Serie principale di Minecraft Ovviamente poi L'anno prossimo Ripartiranno Anche tutte quante le live Forse ne faremo una In chiusura dell'anno Vi voglio bene Vi auguro un buon Natale A voi le vostre famiglie Grazie per il supporto Qua sapete tutto Buoni Che bello Non vi ho trovato A fine regali di Natale A fine regali di Natale